buongiorno buon mercoledì amici di bet italia web anche oggi nuova puntata del nostro podcast oggi c'è un po più lavoro di ieri un po più calcio soprattutto abbiamo selezionato diverse free pick una è stata anticipata perché è iniziata da poco una doppia di darius nel suo canale telegram la riporteremo anche qua purtroppo siamo arrivati un po lunghi iniziamo subito velocemente dalle notizie molto velocemente subito una brutta notizia anche in burundi si arrende il campionato sospeso a tempo indeterminato a questo punto nel mondo si gioca solo in bielorussia nicaragua e tajikistan e aggiungo anche io in taiwan il lockdown dovuto all'emergenza coronavirus sarà bloccato il mondo del pallone almeno fino al 3 maggio in italia dopo cosa succederà c'è l'idea rilanciata da claudio rianieri di portare le sostituzioni da 3 a 5 considerato che le squadre saranno costrette a scendere in campo a distanza ravvicinata e temperature tra l'altro destinate a salire in questi mesi sarà impensabile inoltre che i giocatori possono condividere uno spazio chiuso quindi spogliatoi vietati partite in campo neutro calendario con la massima flessibilità con gare che potranno essere rinviate riprogrammate anche all'ultimo minuto perché considerate a rischio più squadre giocheranno nella stessa città e si giocherà ovviamente a porte chiuse controlli dal punto di vista sanitario su giocatori staff addetti al lavoro molto capillari e anche in panchina i giocatori probabilmente dovranno indossare la mascherina ha parlato anche di questa ipotesi di riprendere il campionato la sottosegretaria zampa sta di pieni solo quando ci sarà un vaccino e su questo direi che siamo tutti abbastanza di quell'idea di quell'opinione quantomeno sia quelli che vorrebbero ripartire sia quelli che no comunque agli stadi pieni credo che fino al vaccino non li vedremo negli altri campionati com'è la situazione in inghilterra gli allenamenti sono sospesi fino al 30 aprile c'è la speranza di ricominciare il primo giugno chiudendo la stagione entro metà luglio il time ha rilanciato anche un'ipotesi di giocare la parte rimanente della premier league di cui mancano nove giornate a porte chiuse a wemblay disputando fino a quattro partiti al giorno in diretta tv in liga la situazione è molto più delicata l'ipotesi più estrema è la ripresa il 28 giugno e poi c'è anche uno scontro aperto tra la lega spagnola e il sindacato dei calciatori che non hanno trovato un accordo in merito al taglio degli stipendi il real sociedad di testa sua ha aperto il proprio centro sportivo consentendo ai giocatori di allenarsi in piccoli gruppi poi ha fatto dietro fronte dopo il richiamo del consiglio superiore dello sport anche il campionato francese non è messo bene ha fissato addirittura la data per l'inizio della prossima stagione il 23 agosto per la stagione in corso si pensa di tornare in campo mercoledì 17 giugno secondo l'equipe per chiudere la stagione entro fine luglio considerati anche gli impegni di coppa di francia e coppa di lega sarebbe necessario giocare ogni tre giorni tra l'altro in francia il lockdown per tutto il paese è stato esteso fino all'11 di maggio la situazione migliore sembra essere quella in germania dal 6 aprile le squadre hanno già ripreso ad allenarsi seppur osservando diverse precauzioni del caso il momento più adatto per ripartire con la bundesliga potrebbe essere il weekend del 9 e 10 maggio anche se non ce n'è ancora nessuna ufficialità tennis binaghi internazionali anche a porte chiuse Roma Cagliari o Milano ci faremo trovare pronti sempre di tennis ha parlato anche Corrado Barazzutti parlare di date senza un vaccino non lo vedo possibile basket Russell Westbrook compra 650 computer ai ragazzi di Houston per garantirne l'istruzione online fortuna che non gli ha comprato dei vestiti Superbike cancellato il GP d'Italia ha rinviato il GP d'Aragon e a Misano si correrà a novembre stravolto anche il calendario di Superbike rimanendo ai motori Mattia Binotto team principal della Ferrari conferma potremmo ripartire dai primi di luglio qualora vi fossero le condizioni quindi niente di nuovo in verità ciclismo sempre ritornando al discorso francese il Tour de France inizierà il 27 giugno slitterà con tutta probabilità dopo la decisione del governo Macron di vietare i grandi eventi pubblici fino a metà luglio si attendono comunicazioni ufficiali entro fine mese si potrebbe correre dal 29 agosto al 20 settembre vediamo anche le prime pagine dei quotidiani sportivi tutti aprono con il lutto nel giornalismo sportivo è morto Franco Lauro a 58 anni quindi si lutto nel mondo del giornalismo sportivo poi si parla di calcio mercato Juventus di Bala vita su tutto sport si parla appunto di Paolo di Bala che potrebbe firmare un'estensione contrattuale e ricarcare le orme di Alessandro del Piero su tutto sport si parla anche del mercato del Milan in rosso nero hanno diversi nomi nel mirino Musso, Ndika, Tonali e Werner sulla gazzetta dello sport invece si rilancia parlando di Inter ieri c'è stata la butà del nome di Griezmann e oggi la Rose aggiunge altri nomi tra i sogni dei nerazzurri i nomi da gol Aboumeyang e il solito Giroud che non manca mai vediamo il programma di oggi cosa ci aspetta calcio Bielorussia campionato di riserve quinta giornata è già iniziata alle 11.30 con Dinamo Minsk Neumann-Grodno sono partiti forti già 3-0 per la Dinamo Minsk più tardi alle 15.00 Energetic contro Gorodeia si continua domani dove torna in campo anche la Visciaia Liga principale si gioca in Nicaragua 17.00 giornata per la clausura di Liga Primera si parte a mezzanotte e mezza questa notte con Walter Ferretti-La Sabanas seguita da Juventus-Managua-Ocotala-Luna e poi il programma si completa alle 3.00 di notte con il resto delle partite e tutte le squadre in campo tra cui il big match Reale-Steli di Riangen che è un po' il classico del Nicaragua partita molto importante tra la seconda e la terza al momento in classifica c'è il Managua davanti a tutti con 36 punti seguono il Reale-Steli e il di Riangen proprio entrambe a 31 in Nicaragua come di conserto il campionato delle giovanili di Under 21 anticipi grandi replicando nelle partite in campo dalle ore 21.30 italiane Tennis, Russia e Liga Pro continuano la serie di match tra tenisti di area Slava per la maggior parte bielorussi tra le tante sfide in programma sono molte le sfide in programma ma non le stiamo proprio calcolando a livello di scommesse visto che per il tennis ci affidiamo al nostro Darius che ce le ha sconsigliate caldamente hockey non possono mancare neanche oggi le solite partite pomeridiane di short hockey in Russia altro campionato che non stiamo calcolando con le scommesse e oggi alle 18.10 si giocano anche 4 sfide della Minsk Championship sempre di short hockey, sempre in Bielorussia Golf, mi fa male il cuore parlare di queste cose USA Outlaw Tour prosegue l'Outlaw Tour 2020 approdata all'Arowed Club di Glyndale in Arizona ci sono due favoriti su tutti al Via Nick Mason a 2.35 e Kyle Slattery a 2.75 nel ruolo di outsider abbiamo Alex Ceica a 7 è uno dei pochi di cui ho sentito parlare di questo field io un cipino su Alex Ceica a 7 ce l'ho messo ma proprio micro giusto così for fun se vi interessa la quota c'è secondo me si ragiona proprio sulla quota più che sui giocatori visto che non è il PGA, non è nemmeno l'European Tour è l'Outlaw Tour freccette anche oggi da mezzogiorno fino a sera si giocano in match delle Icon of Dark Live League con i protagonisti delle freccette che si sfidano ognuno da casa sua e ci sono anche gli e-sports continua anche oggi la Pro League cinese di League of Legends a mezzogiorno si scontrano Dominus contro Royal Never Give Up mentre alle 14 tocca Invictus contro Team V con la Invictus che è anche la capolista si gioca pure il massimo campionato sudcoreano di League of Legends alle ore 14 Danvon contro Sandbox e infine Table Tennis anche oggi Liga Pro Russia e Setka Cup in Ucraina sia maschile che femminile quindi anche oggi tante possibilità di scommesse sul ping pong dopo il 2-1 di ieri nel podcast e il 2-1 anche nelle giocate date sui canali Telegram in serata vi ricordo tutto quello che non esce o non fa in tempo uscire nel podcast tutte le free pick vengono date nei canali Telegram Bet Italia Web Dream Team e Bar Sport Web no Bar Sport Web risultati appunto vediamo i risultati di ieri 2-3 nel podcast abbiamo sbagliato la lettura tra Yulon e Pawan il Pawan ha preso una bella paga e soprattutto ci aspettavamo meno punti è finita 103-90 per lo Yulon quindi lettura sbagliata ci siamo ripresi in parte nel Table Tennis con Ivanov che ha vinto contro Kolesnikov abbiamo preso l'under tra Petrov e Shagarov però la partita è andata diversamente ci aspettavamo un dominio di Shagarov per vincere questo under invece è stato al contrario un dominio di Petrov va bene lo stesso perché comunque con gli over under stiamo andando perfetti nel ping pong 6 giocate di questo tipo tutte 6 prese perché in serata avevamo consigliato anche tra Kolesnikov e Lifenko l'over 75,5 i due se le sono date come al solito fino al quinto set abbiamo sbagliato l'under speciale l'under giocatore Titov under 35,5 1-80 nella sfida con Bichkov e Titov è andata a vincerla e ci ha fregato e poi abbiamo chiuso con Pavlenko che invece non ha lasciato scampo a Ilyukin superandolo 3-7-0 nettamente ok iniziamo dalle free pick questa come detto è già iniziata ve la riporto è una giocata di Darius nel suo canale premium è stata data anche nel canale free quindi la riportiamo anche qui è una doppia 2-10 stake 1 sul campionato riserve in Bielorussia Dynamo Minsk Neiman over 2,5 è già entrata perché come detto al diciottesimo minuto la Dynamo Minsk stava già vincendo 3-0 e poi il nostro Darius ci ha abbinato anche Energetic contro Gorodeia over 2,5 quindi 2 over nelle partite di oggi del campionato riserve per il nostro Darius su questa partita si è ha lavorato anche la nostra redazione parlo di Energetic BGU contro Gorodeia qui abbiamo due idee parziale finale 1-1 a 1,83 stake 1 in alternativa io non vi consiglio di giocarle tutte e due c'è anche il meno 1,5 Asian Handicap a 1,80 anche qui stake minimi parliamo della Visciaia Liga riserve in Bielorussia si inizia alle ore 15 problemi societari per il Gorodeia la squadra delle riserve ha iniziato la stagione con un solo punto in 4 giornate e nemmeno una vittoria in questa trasfetta giochiamo sull'Energetic che non ha ancora vinto a sua volta ma gioca in casa ed è una squadra superiore al Gorodeia Gorodeia che ha perso le ultime due partite senza segnare nemmeno una rete incassando 10 gol il Gorodeia non ha neancora segnato nei primi tempi in questa stagione per questo che giochiamo il parziale finale 1-1 dell'Energetic però come detto alternativa interessante anche l'Asian Handicap meno 1,5 sempre sull'Energetic andremo in cassa se la squadra di casa vincerà con due o più gol di scarto una cosa possibile visto che il Gorodeia in questa stagione ha segnato un gol venne ha subiti 17 e come detto 0 gol segnati 10 subiti nelle sole ultime due partite e ci spostiamo in Nicaragua sempre con la nostra redazione che ci dà due doppie la prima è sugli over ed è sul campionato under 20 un po' di casino over under 20 comunque doppia 1-86 stake 1 andiamo con come detto sulla Liga Primera under 20 in Nicaragua la prima partita in programma alle 22.30 Juventus Managua contro Kotal over 2,5 a cui aggiungiamo Managua contro Yalapa over 2,5 nel campionato riserva entrambe queste due partite potrebbero chiudersi tranquillamente con almeno tre gol l'altra giocata che ci dà la redazione è sul campionato principale andiamo con 2-1 fissi in doppio a 1-80 anche qui stake minimo stake 1 e andiamo con la Walter Ferretti vincente contro il Sabanas e col Managua vincente contro il Yalapa prima partita in programma a mezzanotte la Walter Ferretti o sbaglio forse le ho sì allora la Walter Ferretti la prendiamo vincente in casa il Sabanas ultimamente ha venduto cara la pelle però rimane penultima e arriva da una sconfitta interna la Ferretti è al quarto posto arriva da tre vittorie in cui non ha concesso nemmeno una rete e in buona forma in casa potrebbe vincere come potrebbe vincere anche il Managua la capolista che sul campo sul proprio campo non ha mai perso 6 vittorie e un pareggio 17 reti segnate solo 7 subite intanto mentre il regista è arrivato anche il 4-0 della Dinamo Minsk il Yalapa in trasferta ha vinto solo una volta con 3 pareggi e 4 sconfitte inoltre questa squadra non batte il Managua dal 2016 in questo arco di tempo 2 pareggi e ben 5 sconfitte quindi andiamo con le vittorie della Walter Ferretti e del Managua in doppia 1-80 stake 1 e andiamo a chiudere con le due giocate di striker quindi in tutto sono 1-2-3-4-5-6 anche oggi striker che si concentra sul Nicaragua e torniamo sulla Juventus Managua contro Locotal prendiamo Juventus Managua meno 1-25 Asian Handicap a 1-95 stake 2 ritorniamo a prendere la vittoria della Juventus che ha vinto 2-0 lo scorso turno contro il Real Madrid una grande beppa però perché non ci ha ripagato quella scommessa su cui eravamo andati perché gli avversari hanno abbandonato al settantesimo sul sintetico di casa la Juventus ha un bel vantaggio su Locotal squadra in crisi visto che ha incassato un solo punto nelle ultime 6 giornate e tra l'altro ha sempre perso nelle ultime 7 sfide su questo campo prendiamo il meno 1-25 Asian Handicap per la Juventus Managua andremo quindi in cassa se la Juventus vincerà con 2 o più gol di scarto se vince con un solo gol di scarto abbiamo comunque mezzo rimborso e l'ultima giocata di Stryker è i steli di Riangen il big match andiamo col di Riangen più 0-75 Asian Handicap a 1-97 stake minimo stake 1 big match della notte lo abbiamo detto un po' il classico del Nicaragua il di Riangen è al terzo posto alla pari con le steli proprio e potrà giocarsela dopo il 3-1 sul campo del Cinandega le steli arriva dal 3-1 sul campo del Cinandega scusate ma precedentemente aveva faticato in tre partite consecutive senza neanche una vittoria il mese scorsi il di Riangen ha vinto 3-0 in casa contro le steli di fatto il di Riangen non perde da quattro partite consecutive contro le steli due vittorie e due pareggi come detto prendiamo il più 0-75 Asian Handicap degli ospiti cosa vuol dire andiamo in cassa se il di Riangen vince o pareggia la partita se perde con un solo gol di differenza abbiamo comunque mezzo rimborso e su questa partita però mettiamo solo un cipino uno stake 1 rispetto a quella della Juventus Managua dove Striker ci consiglia invece uno stake più alto un investimento più alto uno stake 2 va bene siamo arrivati alla fine io vi ringrazio vi auguro una buona giornata fate buone scommesse puntate sempre con la testa noi ci continuiamo a sentire sui nostri canali telegram ciao ciao